La pagina sportiva oggi la apriamo con il Gubbio che ieri sera al Barbetti ha rimediato la sconfitta dalla Ravenna. Vediamo un po' i titoli dei quotidiani per poi lanciarvi il servizio. Dalla nazione Gubbio sconfitto al Barbetti, è finito l'effetto Pagliari, i Rosso-Blu giocano senza grinta e Ravenna passa facile, finisce 0-1 con il gol al 22esimo del primo tempo di Broso. E poi il Corriere dell'Umbria sul stesso argomento, Buio-Pesto-Gubbio, altro KO, pesante stop casalingo per il Rosso-Blu contro il Ravenna, decisiva la rete di Broso dopo 22 minuti, 0-1, prova da dimenticare per la squadra di Pagliari con tanti errori in difesa e mister Pagliari non cerca l'alibi, dice la peggior gara della mia gestione. Ancora Marchi commenta, non c'è stato equilibrio quando rincorri in classifica, ogni errore pesa il doppio. Le Pagelle, Piccini, Garanò, San Pietro si perde, Fioccani 5-5, in sufficienza solo Loporto e Ciccone, Casiraghi e Marchi. Per il resto sono tutte insufficienze. Anche il messaggero titola Gubbio che botta il Ravenna-Corsaro al Barbetti 0-1. E noi vediamo il servizio dedicato a questa partita. Duello diretto salvezza al Barbetti tra Gubbio e Ravenna nel turno infrasettimanale della tredicesima giornata del girone B di Serie C. 4-4-1-1 per Pagliari con Piccini, Polelli e San Pietro dal primo minuto, 3-5-2 per l'Antonioli con l'ex Venturi tra i pali. Al quinto minuto, gran giocata di Marchi che in fase di ripartenza salta secco Barzaghi e lancia fulla destra per Casiraghi, cross tagliati in mezzo per Ciccone anticipato dalla tempestiva uscita di Venturi. Al quattordicesimo, Ciccone calipra in mezzo dalla finistra un calcio di punizione, sbuca sul primo palo la testa di Piccini che pressato non riesce a trovare lo specchio della porta. Ventunesimo minuto, splendido lancio in profondità di Selleri che con il mancino dipinge un assist in profondità di 30 metri che taglia in due la difesa è Gubbina. Proso si imbuca tra di erne Piccini scattando sul filo dell'offside e con un chirurgico destro sul primo palo prende in controtempo Volpe siglando il gol del vantaggio Ravennate. Prima gioia in campionato per Proso e Ravenna che ritrova la via della rete dopo ben 470 minuti di carestia offensiva. Compice anche il cattivo posizionamento del pacchetto detrato di Gubbino oltre alla pressione nulla su Selleri in fase di definitura. E 4 minuti dopo Venturini lancia fu la finistra verso Maestrello che vince prima la contesa fisica su Dierna e poi il rimpallo fu l'uscita di Volpe ma Piccini all'interno dell'area piccola allontana la minaccia. Al 35esimo un cross da tre quarti di Gherardi costringe Volpe alla presa alta ma ricadendo l'estremo difensore rosso-blu si sconta con Calombo e perde palla. Proso prova ad approfittarne scivolata ma Dierna si oppone al 40esimo a provarci Casiraghi su calcio di punizione pallone radente che termina fuori con Venturi comunque sulla traiettoria. Si passa la ripresa e dopo un minuto Casiraghi servito da Ciccone si invola sulla sinistra eludendo la marcatura di Gherardi e il cross in mezzo per l'inserimento di Polelli che nell'area piccola devia con il ginocchio ma la sfera termina alta sopra la traversa. Due minuti dopo Casiraghi calibra dal limite un calcio di punizione sopra la barriera Venturi resta di sasso e il pallone termina di un soffio fuori. Passano altri 60 secondi e da rimessa laterale Proso libera Maestralinaria contro Lerroneo e Volpe in uscita va sul pallone. Al 56esimo altra gittata da pallina attiva di Selleri per Venturini spiovente al vol in aria sul lato debole verso Proso che controlla e calcia sul primo palo Volpe con i piedi e le spinge. Al 68esimo Casiraghi scambia con Dierna e croffa dalla destra pallone troppo alto per la testa di Marchi ma buono per Ciccone che controlla palla la perde sul contrasto con Ballardini e riconquista e cross a basso in mezzo Gherardi chiude in angolo. Al 72esimo altro corner battuto dal sinistro magico di Selleri sponde aerea di Maestrello per Venturini sforbiciata a deludere l'uscita di Volpe ma sulla linea Giacomarro di testa anticipa il possibile tocco vincente sotto misura di Maestrello. L'emblema della partita rosso-blu è lo scivolone su calcio di punizione di Casiraghi al minuto 79 e due minuti dopo in contropiede il Ravenna sfiora il bis ma Piccini prima e Dierna poi proteggono la Porta e Gubina. sconfitta pesante per il rosso-blu sempre più quartultimi e con i romagnoli ora ad una fra lunghezza con il Gubbio chiamata a reagire domenica nella trasferta del Bonolis di Teramo. Dunque questo per il Gubbio ora ancora per lo sport torniamo ai quotidiani lasciamo però per un momento il calcio perché la copertina oggi il Corriere dell'Umbria la dedica al volley e ai Block Devils missione compiuta a Minsk la Sir siccome a Colussi comincia la grande il cammino in Europa fase a gironi più vicina i Block Devils giù nel primo set hanno poi cambiato registro e alla fine per loro è stata vittoria 1 a 3 domenica il ritorno all'Evangelisti. Torniamo al calcio siamo a Perugia Bandinelli il grifo è forte dobbiamo dice tirare fuori qualcosa in più ritrovare le vittorie mi manca il primo gol in B ma arriverà presto. In casa Ternana crisi in difesa Fere i numeri sono da brivido penultima retroguardia del torneo con 25 gol al passivo porta inviolata soltanto in due occasioni contro Cesena e Carpi abbiamo già letto del Gubbio andiamo in eccellenza Spoleto ora Ciambottini non risponde ai giocatori il presidente della Voluntas dice sarà chiarito tutto a tempo debito. Siamo in Coppa Italia di promozione l'andata delle semifinali la Ducato ribalta l'Ellera 2 a 1 ancora per la Coppa Italia promozione si è chiusa in parità a Luzzi tra il Gualdo Casa Castalda e Clitunno 1 a 1. Andiamo al messaggero grifo in tempo a fare tutto parla Bandinelli staccano vista del centrocampo che dice usciremo da questa situazione e poi a Terni Fere mister Pokesci investe sulla difesa l'allenatore continua a concentrare gli allenamenti sul reparto arretrato. Sir bella di Champions Perugia inarrestabile anche in Europa vittoria per 3 a 1 in Bielorussia nell'andata del turno preliminare di Coppa i Block Devils partono male vanno sotto poi la reazione e la vittoria. Per il calcio in eccellenza Voluntas anche il comune batte cassa servono 6.000 euro per pagare gli arretrati entro domani va saldato il conto. Questo per il messaggero chiudiamo dall'inserto sportivo della nazione da Perugia siamo in ritardo ma possiamo risalire le parole del Filippo Baldinelli intanto dal campo Mustacchi e Monaco sono i box sono in dubbio per Venezia. Il gubio abbiamo già letto Ternana a fare punti via dall'ultimo posto e poi andiamo a parlare dei Block Devils Sir detta legge anche in Bielorussia i Block Devils soffrono ma alla fine vincono e per il volley di a 2 Zambelli e Orvieto si gode la vittoria siamo un team guardiamo avanti mentre per il basket di serie di maschile Assisi e Serie Cup Cannara si aggiudicano gli scontri diretti. Si chiude qui la nostra rassegna stampa vi diamo appuntamento dalle 19.30 con i Tg Serali a voi una buona giornata.